Ciccia ma la propria. Ciao funghetto! Fa essere imbiosa. Guarda funghetto. Uh, aspetta, 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 che qua... Ok. Ah, uno scrigno, ottimo! No, sbagliato. Ottimo! No! E niente ragazzi, mi sto facendo niente delle figuracce, vi chiedo scusa. Ci sono veramente easy ste parti, non so perché non riesco a farle come dovrei. Ok, ottimo! Oh, cazzo! Ok. 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 No. Eh vabbò. Però... Questo qua è giusto un poco stronzo, io ve lo dico. No, no, no! No! Eh vabbò. Eh vabbò. Ok, ok. Abbiamo questo problema con questo cavolo di pipistralli. Cioè vedete che perdo malamente proprio? Oh, che culo. Ok. E uno è fuori, perfetto. Ottimo. Ottimo. Però aspettate, se io tecnicamente adesso faccio così... Faccio partire il timer. Non ce la faccio ad arrivarci però. Scusate, ma che aspetta si fa ad arrivare? Non è che ci vuole per caso un... Forse che un altro pg perché in effetti il nostro personaggio è molto lento. Forse ci vuole un personaggio veloce. Ma vabbè. Allora andiamo avanti. Grande. Bella. Bellissima sta cosa. Ottimo anche lui. E... Ottimo anche lui. Sì vabbè. Questa qui però è un pappaghettino eh. Cioè non puoi tipo... Cioè non posso tipo batterlo... Allora. Scusa... Cosa succede se io faccio... Ah ok. Ahia. Ecco due. Ma sti qua non vale che tipo appaiono così a puffo da soli eh. Ok. Eh non posso neanche sparare. Eh dagliela. Questa cacchio di... Idea... Della limpeforza colpire male. Ok. Ah. Perfetto. Qua c'è un altro... Ci dovrebbe essere un altro di quei... Tartufi. Ok. Dai. Tartufo rosa? Cosa fa questo? LOL. Ha fatto una scorreggia. Le tue abilità con il boomerang sono state sbloccate. I boomerang danneggiano i nemici e consentono di ottenere oggetti dalla distanza. Possono persino superare le pareti ed essere ripresi. Trova altri tartufi per migliorare la tua magia con il boomerang. Ok. Va bene. Ah ora posso switchare. LB e RB. Che fico. Ok. Quindi immagino che dovremmo provarlo. Perfetto. Era ciò che immaginavo. Che dovessimo provarlo. Ma muoreci male. Maledetto. Ok. Qua dobbiamo fare tipo su e giù. Allora. Ecco. Ehi come faccio a prenderlo mo'. Un altro boomerang. Non è che magari bisogna colpirlo col boomerang? Vediamo. No. Qua c'è qualcos'altro che dobbiamo fare ma non so che cosa merda. Eh vabbè. Niente ragazzi. Devo per forza morire in continuazione al gioco. Quindi non siamo contenti. Volevi. Eh intanto non ho capito dai. Ok. 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 Fa parte del gioco. Morire da stronzi. Va bene. Perché? Madonna. Tu mi hai proprio rotto le palle. Allora. Sì ho capito ma se qua. Se quello lì fa scendere no? Se io clicco questo. Ah. Ho capito. No. Eh sì ho visto. Cioè vuol dire che. Ho bisogno di uccidere ancora questo. Esatto. Per me serve il boomerang. Aspetta. No. Devo far velocissimo proprio. Ok. No. Ma perché devo sempre farmi male? Ah. Ok. Vai. Grandissimo. Perfetto. Perfetto. Un nuovo oggetto? No. No. Ok. Vediamo. Salve signor mediale. Non è proprio la mia giornata. Saresti così di rompere la gabbia per me? Eh. Non mi ha proprio riconosciuto. Non mi ha proprio riconosciuto. Ehi Peppe Logo. Sono io Jin. Chi? Il ragazzo dei capelli blu. Il ragazzo dei capelli blu. Ti trovo cambiato. In senso buono. No. È davvero un gran bel muso. Ti spiacerebbe rompere la gabbia un po' strettino qui dentro? Ok. Grazie mille. Che ci facevi in una gabbia? Non lo so. Sono caduto in questa trappola. Comunque grazie ancora. Ci vediamo maialino dei capelli blu. Aspetta. LOL. Grazie. Fico. Uh. Guarda qua sopra. L'ho trovato. Ecco quella cosa lì. Che cosa sarebbe? Ah. Il full vita. Ok. Perfetto. E c'è anche salvata la vita. Perfettissimo. Ottimo. Interessante comunque che c'è anche il full vita eccetera. Ok. Si salva. Allora. Vediamo un po'. Ci sono anche i ragni ragazzi. Attenzione. Allora è tutto qua. LOL. Che caspita. Che caspita. Ho appena fatto ragazzi. Ma non è male tanto in su però. Ottimo. Marda. Ok. Ottimo. Ok. Ah. Non mi dire che ha tempo. Sul serio a tempo. Sul serio a tempo. Ok. A quanto pare da tempo. Ottimo. Eh cacchio. Però mi serve quello lì. Mi serve quella vita. Ok. Ottimo. Ottimo. Ottimissimo. Vai 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 così. No. Ah aspetta. Forse. Facendo così. Grande. Ottimo. Quindi se ora io faccio così. Eh no. Devo per forza rifare come ho fatto prima. Mi sa tanto. Ottimo. Vai. Ottimo. Che pelle ragazzi. Ok. Qua in realtà non è che ci siamo. Che cazzo. Perché c'è una. Perché c'è una. Perché c'è una. Perché c'è una lumaca. Lol. Ma adesso ti ammazzo male proprio. Ma guardate sto qua. Non lo so. Queste cose. Ok. Vabbè. Intanto siamo riusciti a passare a questa parte qua ragazzi. Via. Andiamo. Andiamo. Salve bella volpe. Come mai questa faccia triste? Sei gentile. È per la mia famiglia. Mio marito Volpinus è piuttosto scosso dal fatto che ora i nostri figli siano dei procioni. Zio Nabu. Almeno non sono stati trasformati in qualcosa di peggio. Fidati. Se solo ci fosse un modo per eliminare questa maledizione. Non preoccuparti madame. C'è ancora speranza ma ci serve una sfera magica che si dice sia nascosta in questa foresta. Davvero? Volpinus conosce la foresta come la sua coda. Lo trovi sulla cima dell'albero. Buona fortuna. Mappa aggiornata. Ok. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Vediamo se c'è ancora qualcosa. Se solo ci fosse un modo per eliminare questa maledizione. Ottimo. Ah intanto qua. Ecco. Salviamo. Che è quello che ci serviva di più. Qua non possiamo aprire perché non abbiamo la chiave. Aspetta. Perché non... Ah ok. Per forza qua devo andare. Niente. Scusa. Perché qua mi faceva andare allora? Bah. Bah. Bah bah bah. Non facciamoci domande ragazzi perché ho pure delle risposte. Vai. Allora. ci va all'albero poi. Mi piace sta cosa anche. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Ora ci arrivo. Ma sei un po' bastardo però io te lo dico eh. E sono pure pirla io che me l'ho fatto malissimo sta cosa. Però va bene. Ok. Ah aspettate non è che magari c'era qualcosa da vedere qua? Nei due lati più che altro. Ok. Qua c'è qualcosa. Sembole. La sopra non ci posso andare però. Perché non ci posso andare qua sopra? Ma forse ci potrò andare in qualche altra maniera? Allora la nebbia. La nebbia per poter salirla sopra non c'è. Quindi non ci sono tipo cose che dobbiamo vedere. Aia. Maremmina maiala. Ok. E di qua invece... Uh. C'è un vendor. Ok. Come si arrivano giusto 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 tutto. Perfetto. Però oltre di qua non possiamo andarci. E la sopra neanche posso andarci. Hmm. Però a compreso abbiamo preso la vita in più che non guastava. Anzi. Ottimo. Ok. Allora la prima fra stada praticamente è inversa. Ahia. Ahia. No bellissimo. Ragazzi possiamo... Avete presente come? I Pungible. Ah ok. Questo affare qua rallenta praticamente. Quindi i ragni quando... venite colpiti dai ragni vi rallentano. Ricordatevelo ragazzi eh. Ma guardate questo stronzo. Cioè ma è apparso così l'improvviso ma è apparso. Ma si può. Ah qua ci sono i... Ok. Ma si mi lanciassi così tipo. Oddio è questo? Oddio ma tu mi vuoi dire che ho capito cosa devo fare? Devo salire sopra i vari tipistralli. No. Eh perché sono andati velocissimi. Aspetta. Allora qua adesso ci metteremo una vita ragazzi. Ve lo dico già eh. No. O. Grazie a tutti. Ho bisogno di vita, quindi non c'è più dalla vita. Ho bisogno di vita. Ho bisogno di vita. E vai. Una volta sì, due volte no, ciccio, mi dispiace Ah, ok, aspetta Oddio, che cos'è quello a fare lì? Cioè, cosa dovrei fare lì, scusate? Perché c'è l'elettrico? Ok Ok, qua non so assolutamente che cosa che vorrebbe che facciamo, quindi aspettiamo un secondo C'è anche qua, devo fare la stessa cosa No, aspetta, 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 che qua c'è anche di qua Ottimo Ma sul serio, cioè, così Cioè, questa parte qui dovrei farla veramente così Ok, ottimo, ce l'abbiamo fatta Allora, qua Sai che faccio prima usare una di... no Faccio prima usare alcuna di queste, no? No? Ok Eh la madosca, che cosa caspita devo farci? Aspetta, proviamo così? Ok, bella Oddio, questo è del tuono adesso Lol Ma ogni volta facciamo le puzzette Super trattufo fulmine Ha ottenuto capacità elettrizzanti Devoca un fulmine che colpisce i nemici E attiva alcuni oggetti speciali Trova altri trattufi per migliorare la tua magia con i fulmini Menù d'anello sbloccato Ora puoi cambiare rapidamente le tua magie Puoi disattivare nel menu opzioni Ah, fico Va bene Perfetto Questo siamo riusciti a prendere Il problema è l'altro L'altro non riesco a farlo Allora, quelle monete però Mi piacerebbe poterle prendere, vabbè Ok, non la prendiamo Fa un modo Ok, beh, la vita l'abbiamo presa almeno Ok, non la prendiamo 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 Grazie a tutti. 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 No, no ragazzi. Grazie a tutti. 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 Però... Grazie a tutti. 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 Pinus. Grazie a tutti. Grazie a tutti.